Ok, qualcos'altro più avanti? Non credo, vero? Nope, va bene Oh, lì c'è un'altra cassa, però Very interesting Sali Possiamo di fucile d'assalto Oh yeah, baby Così si ragiona Aspetta, darmi un altro caricatore intero, che devo troppo Me ne ho da solo 15 di colpi, ma vabbè Ci accontentiamo Noi abbiamo più munizioni Benone Comunque Eeeh Ehm Come salgo? Per curiosità Possiamo switchare? Ok Ehm Da non possiamo andare Quindi Eh, dovresti poter sgattaiolare di qua, no? No? No Può nemmeno saltare? Hmm Quindi dove si passa, mi chiedo Ah, magari si deve Bisogna rampicarci Sì da qui Aspetta un attimo Può essere che sia da qui Che bisogna andare, quindi Non era poi tanto segreto Come Come luogo E in effetti Mi sa di sì Mi sa che bisogna passare di qua What the fuck are those things? Au Non voglio spiegare munizioni per questi cosi Proprio no Eeeh Qua Oh yes Come ti chiami, piccola? Natalia Oh yeah E lei? Beh È proprio un bel nome Io sono Barry 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 Esatto Facile da ricordare Qua non c'è niente, vero? E' vero Ok Andiamo di qua Sarei inferiore Aspetta questa ragazzina Probabilmente sì Dato che comunque Muori 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 Isetto glitchato Che glitchano Ok Ignoriamoli Ok Abbiamo trovato l'entrata Ciao ragazzi Come va? Oddio C'è qualcosa di nascosto Qui dietro Che mi sarà sfuggito Ah Uh Questa sembra l'unica via di accesso Addio Forse possiamo entrare qui dentro In qualche modo Così Semplice C'è un tavolo Sembra non esserci nulla di interessante qua Ok Entriamo Cosa che abbiamo esplorato abbastanza Dai Ok Oh Ciao Apri Erba Di caso mia Thank you Un'altra Uh Combinazioni degli oggetti Gli elementi segnati con un più Possono essere combinati con altri oggetti Per combinare degli oggetti Scendi Scegli Combina L'inventario E vai alla schermata Delle combinazioni Ok Poi si può ancora aprire qua Thank you Mi sono in voci d'assalto Oh yeah baby Come il po' di Hammows Comunque Ah si piaceva con Beck giusto Comunque Possiamo combinare questo Combina con questo Erba verde per tre Ok L'abbiamo Fatta aumentare Abbiamo fatta la moltiplicazione Praticamente Siamo tipo Gesù Ok Venone I mostri Mostri Eh eh Harry tu lo devi sapere cosa sono Sei dal primo Resident Evil che ci sei Quindi Spero che tu lo sappia Voglio dire Non è il tuo primo Resident Evil questo La tua testa non c'è più La tua neanche E La tua neanche E la tua neanche Bene Deve essere uno degli infetti citati nel briefing Ok Cambiamo arma Mi sa che l'ho sprecato un po' i colpi di quest'arma però Però cavolo Li ha disintegrati questi Li ha totalmente devastati Attenzione fucile d'assalto Bene Piccato il fucile d'assalto mi piacerebbe conservarmelo il più possibile Il revolverone se lo porta dietro fin dal primo Resident Evil Non male Vi ricordi Tanto hanno fatto anche il remastered decente Però non l'ho mai giocato quello Con Betty già mi ci trovo molto meglio devo dire che con Sono una di loro Ecco Percezione di Natalia e appuntamento Natalia possiede l'abilità di percepire i nemici Facendola accovacciare con LS Può aumentare il suo raggio d'azione Inoltre Nella posizione accovacciata Natalia può muoversi senza far rumore In modo che i nemici riescano a trovarla più difficilmente Natalia può anche trovare oggetti nascosti Puntandoli con LT Ok Oh no Fermati bambini E' troppo pericoloso Perché? Non ho paura No eh Uh Thank you Fondazione di pistola Thank you E' il dito che indica C'è qualcosa più avanti Attento Oh Potremmo switchare di nuovo? No Ora tocca a me occuparmi Magari Grazie Attacco furtivo Oh Barry può fare anche gli attacchi furtivi Bello Mi piace Oh yeah Barry ti amo Decisamente Quale o c'è un altro là? Wait a second C'è qualcosa qui in fondo? Che mi è sfuggito Magari nascosto Wait a second A non esserci Sì c'è qualcosa Oh yeah E' che io Un'erbetta Mi farà molto Molto comodo Assolutamente Cosa da leggere qua? Yes Mappa Oh yeah baby Qualcuno qui eh E vabbè Dai anche da dietro Bastardo Ok Questi mi piacciono Perché sono molto più lenti Rispetto agli altri Più facile Più facile Colpirli in testa Molto più facile A me i zombie veloci Non piacciono Perché non riesco a Shottarli Comunque Ehm Cosa di nascosto qua sotto Non sembra Ok Non so se con Barry Le posso vedere le cose nascoste Un po' vedere Vedere se c'è qualcosa Di nascosto Qui Non sembra proprio Ok Piri Cosa c'è qua sopra Però Uh Erano dei soldati Questi Carino Magari mi troppano Delle munizioni No eh Chiedere troppo Mi ha visto Quello lì dentro Carino Oh Oh C'è Brigato il primo colpo Ehm Stai fermo con quella Testolina di Cavolo Ok Fuori Thank you Oh Ancora vivo Thank you very much Bene E' bello E' che muovono troppo la testa Quando camminano Lo so che ovviamente E' fatto apposta Ma Ti incasina moltissimo Nella mira Ma Troppo tanto Dammi qua Garza Ok Scusamente perchè sto mirando Col joystick E non con La tastiera Dopo Quasi quasi Proverò A giocarlo A giocarmelo Di nuovo Quando lo rigiocherò Eh Per un attimo Mi è apparso scritto A What No Per qualche motivo Mi era apparto Scritto A Ma Pensavo di poterlo Luttare Evidentemente no Are you dead Or no No Lo sapevo Che non eri morto Addio Ora si che sei morto Però Ci sono dubbi A riguardo adesso Bimba Dimmi un po' Se qui c'è Qualcosa da luttare Non sembra Ok Facciamo qua di bello Possiamo aprire Yes Altre ammo Thank you Questa è una pistola Molto più seria Di quella che aveva Che aveva Redfield Prima Ma molto più seria Direi Sento zombie Che camminano in giro Si fanno le passeggiatine Comunque Andiamocene di qua A vedere cosa c'è Eccoti là Ti vedo E scappanderti alle spalle Ovviamente no Questo in fronte però Va bene lo stesso Quello l'abbiamo ucciso Noi prima Beh Non sembra esserci niente Di che qua Ad essere sinceri Perfetto Ok 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 Non l'avevo Assoluterrimamente Vista questa Era un tantinello Sfuggita Ce la fai Sì Ok Salga Wtf Non sembra che ce la faccia A me però Vedo che cammina lì davanti Per niente Però me la teletrasporteranno Vicino sicuramente Stai a vedere Appunto Uh Gavi Dunque Vedete se ce n'è uno Lì dietro C'è un buco qui Eh 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 That's what she said Topazio Oh posso entrare Eh ma c'è uno zombie Qua dentro però Hm Eh sì c'è uno Zomboide Wtf Uh posso ucciderlo Col mattone C'è qualcosa Più avanti Attento È morto Sì Ok Vabbè Apri Ok Via libera Hai più fegato di me Eh Beh una bambini I bambini sono un po' inconscienti Polvere da sparo Ok Posso farci le bombe con quella Forse costruimi dei proiettili io Non ne ho pochi Sarebbe ottimo Che troppo bello probabilmente però Uh Siamo tornati dove stavamo prima con Redfield Ok Eh abbiamo qualche potenziamento Non credo Ehm C'è molto questa pistolina da potenziare Non ho niente Quindi No Absolutely Nothing Quindi Ok Ok Ehm È tornato giù questo per qualche motivo Uh I zombie più veloci Purtroppo Addio Fortuna questa pistola è fottutamente potente Ok Questa pistola è una bestia Avercela avuta prima magari One shot a tutto l'universo Quello già l'avevo letto Credo Carino Ma sarà meglio trovare un modo per fermarlo Hm Ok Dobbiamo andare a trovare la corrente Credo Dobbiamo ritornare sopra di qua La scala lì è distrutta Purtroppo Come di qui Barry devo dire che È equipaggiato tipo Novantamila volte meglio Rispetto A Redfield A parte Redfield ha trovato le armi Così a casaccio in giro E invece Me le sono portate da casa Quindi le ho potute scegliere Quelle che volevo Ehm Ok Allora Forse devo andare di qua Battone Dobbiamo aprire Ci siamo nella stessa zona Però con un personaggio Differente Possiamo vedere che possiamo fare cose Differenti Giustamente Classico concept Voglio fare boom C'è qualcosa più avanti Attento Oh yeah Thank you very much Aspetta ma ci sono mostri qua quindi Sono zomboidi Solli il mattone Boom Wow Muori Cribbio E che cos'è Ok Thank you Guardi il mattone Quelli a terra Faccio una fatica bestiale A colpirli Un po' raccoglierlo Per qualche motivo Vabbè Sotto al tavolo Non ci arriva Ma che ne so Cose strane Comunque notare Che deve essere passato Un bel po' di tempo Perché adesso Questi zombie Sono tipo scheletrici Quindi si sono deteriorati Un bel po' Dovrebbero essere passati Vari mesi Credo Da quando sono venuto Qua all'inizio io Minimo mesi Sembrerebbe Ok Morto Allora Ora non mi ricordo Dove stava il coso Per staccare E attaccare la corrente Forse è qua sotto Boh Barry è Barry Devo dire Barry è il suo perché Nel combattimento Sembra normale Ok Io Ho deciso Non mi ricordo Dove stava il coso Per attaccare E staccare la corrente Addio Addio Se ho preso un fronte Devi morire Grazie Perfetto Ora si ragiona Qualcosa mi dice Che non era qui Che dovevo andare Così per dire Grazie a tutti